buongiorno a tutti sono in un cimitero immagino che si possa vedere che questo è un cimitero e siamo nel cimitero di fossano in provincia di cuneo e questo cimitero come altri cimiteri in italia per esempio quello di savigliano quello di cuneo ha deciso di usare un'aura e un'area e una in questo momento sono semplicemente un piccolo pezzo di prato siamo su questo piccolo pezzo di prato per i bimbi abortiti sia per gli aborti accidentali che per quelli volontari per gli aborti accidentali questo è molto importante avere una tomba per piangere il proprio bambino perché è un lutto gravissimo noi donne non diciamo aspetto un feto diciamo nemmeno aspetto un gruppo di cellule c'è aspetto un bambino e quando questa attesa si spezza perché qualcosa va male è veramente terribile perché perso un figlio e poi ci sono gli aborti volontari qualsiasi barbarie può essere venduta purché ti dicano che un tuo diritto è un della pillola che distrugge il tuo sistema ormonale che può causarti anche un ictus o un infarto o la trombosi alle gambe o la cellulite che abbatte la tua libida che modifica il tuo amore è un tuo diritto noi combatteremo per questo tuo diritto abortire è un tuo assoluto diritto qualsiasi uomo può unirsi con te e infischiarsi del fatto che tu resterai incinta perché hai il diritto di abortire una valangata di donne non lo sapevate non ha abbastanza assertività da rifiutare l'aborto che in realtà non vuole e che viene imposto dal compagno anche in maniera molto violenta oppure addirittura dal datore di lavoro per queste donne la ferita è terribile fateci caso fateci caso queste vite strane scelgo sempre gli uomini sbagliati ho sempre la mano in bocca gli spinelli che male c'è o nulla diventa ancora più intelligente queste vite buttate che cos'è un aborto un aborto è terribile un aborto è un feto che muore è un feto che diventa così non so se riuscite a vederlo perché lo sto imparando da fuori quando noi restiamo incinte noi diventiamo madri noi abbiamo la scelta di diventare madri di un bambino morto di un bambino vivo se diventiamo le madri di un bambino morto volontariamente morto noi cominciamo a camminare sotto le aie della morte ma non è difficile da capire cominciamo a giocare l'aria con l'idea del suicidio e così via l'aborto non è una macchina del tempo non ti riporta indietro fino a che tu fossi incinta quindi se è rimasta incinta non ne vuoi sapere fai fai lo sforzo fai nascere qualcosa così se non lo puoi tenere ci sono per ogni bimbo dichiarato adottabile in italia nove famiglie che vorrebbero adottarlo fai questo dono a un'altra mamma un altro papà lascialo vivere ci rimetti nove mesi della tua vita anzi sette intanto che ti accorgi che sei incinta non è una cosa così terribile fa il salto e poi magari cambia l'idea magari quando vedrai pensarei che tutto quello che ti sembrava così importante l'erasmus non ho abbastanza soldi sono bagianate perché noi siamo donne domina regina dentro di noi c'è quell'istinto che tiene insieme il mondo dall'inizio dei tempi che l'istinto materno noi abbiamo capacità di combattere noi diventiamo leonesse quando diventiamo madri quindi non diventare la mamma di un bimbo morto diventa una lionessa e se lo avete fatto non vi fate due giorni questo pesa sul vostro cuore quando sarete sul letto di morte vi auguro il più tardi possibile quel bimbo vi mancherà in maniera terribile lo so perché seguo i morenti allora dategli un nome cercate un sacerdote che lo battezzi questo battesimo ha un valore dategli un nome e compensate questa vita mancata con altre vite iscrivetevi al cavo più vicino a dove vivete voi centro aiuto alla vita adottate un'altra mamma incinta adottate un altro bimbo di questo bimbo diventate una zia comprate gli maglioncini comprate gli il necessario per essere vivo uscite dalla cultura di morte silvana de mari e gianluca maltone eccolo qua buongiorno a tutti dal cimitero di fossano a parlarvi di cultura di vita buona giornata